L'astrofisico Stephen Hawking, probabilmente uno dei più intelligenti uomini del pianeta, ci ha messo in guardia sulla possibilità dell'arrivo di alieni provenienti dallo spazio. Hawking ha detto che se gli extraterrestri ci faranno visita, le conseguenze saranno simili a quelle dello sbarco di Colombo in America. Per dirla chiaramente, l'evento non fu molto positivo per i nativi americani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.